La città dei due mari sogna in grande e pensa ad un centro di recupero e rieducazione alla libertà dei delfini provenienti da delfinari sparsi per il Mediterraneo e l'Europa, nella ipotesi ideale da stabilirsi nella darsena dell'isola di San Pietro, un progetto di respiro internazionale. Il recupero di San Paolo, a dirla tutta, rientra nell'alvio di un più complesso sistema di permute di aree ancora in capo alla Marina Militare, in generale alla difesa e al demanio. Con le dovute interlocuzioni istituzionali si potrà predisporre un percorso condiviso per il trasferimento delle stesse in favore del comune, quindi della collettività. L'area ricovero dei delfini assume un ruolo centrale per lo sviluppo del territorio non solo in relazione alla protezione della specie, tanto amata e dal forte significato identitario e simbolico per Taranto, ma anche perché favorisce la progettazione di iniziative in grado di sostenere le più disparate ricadute economiche. Così interviene sul tema l'assessore comunale delegata all'ambiente Francesca Avigiano che spiega non si tratterà di un luogo di detenzione per animali a fini esclusivamente ludici o economici, ma un centro di studio ed educazione alla sostenibilità ambientale che però potrà attrarre anche il turismo. Si tratterebbe dell'unico centro nel Mediterraneo del genere, il Taranto Dolphin Sanctuary rappresenterebbe un punto di riferimento per la tutela e la conservazione dei cetacei a livello globale. Collaborerebbero anche Ionian Dolphin Conservation e il Dolphin Project di Ricciardo Barry, premio Oscar per il documentario di Cove, simbolo in discorso della tutela dei cetacei in libertà, promotore del progetto gemello realizzato nel 2019 a Bali.